Devo arrivare là, a piedi Ciao ragazzi, benvenuti ancora un nuovissimo video di prezzo E oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video per i quarti di finale Brasile Croazia Ragazzi, sto in un posto fighissimo Praticamente, che è successo? Ah beh, aspetta, aspetta Prima di continuare, non vi costa nulla Lasciate un like in questo video Perché oggi ci divertiremo Quindi sulla fiducia lasciate un like Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto E attivate anche la campanellina Sto a Balneario Camboriù Vicino alla ruota panoramica Il comune di Balneario Camboriù ha organizzato una cosa clamorosa Che adesso vi farò vedere Praticamente ha montato un mega maxi schermo Sulla spiaggia Grande Quanto un palazzo di nove piani Il più grande dell'America Latina È il terzo al mondo Il primo si trova a Dubai Il secondo si trova a New York Quindi Poi Addirittura Sa cosa hanno messo? Al centro un palco dove ci saranno spettacoli Samba, pagogi, musica Tanta di quelle cose Guarda che dopo vi farò vedere tutto bene alla grande Andiamo a chiedere Andiamo a chiedere Andiamo a chiedere a qualcuno Un attimo il risultato Perché le altre volte ci hanno sempre quasi azzeccato A parte la seconda partita Diciamo che la struttura inizia qui Non so cosa ci sarà Questa è una parte coperta È qui il maxi schermo Guardate quanto è grosso Non si capisce quanto sia grosso qui Però è enorme Siamo qui dentro Guardate che spettacolo Dove vediamo questa partita? La vediamo qui Adesso vado qui sotto e farvelo vedere Guarda E io mi bruggerò Dessimo, devo mettere un protettore Perché altrimenti sai da Europa Quanto vai terminar il gioco? 2 a 1 2 a 1 Ok, grazie Quanto vai terminar il gioco? 3 a 0 Brasil 3 a 0 Brasil Valeo Quanto vai terminar il gioco? 3 a 1 3 a 1 Valeo, grazie Oi, tutto bene? Brasil Brasil 3 a 0 3 a 0 Valeo, grazie 3 a 1 3 a 0 3 a 1 Lui Il gioco il gioco il gioco Il gioco il gioco il gioco 2 a 1 2 a 1 Grazie Tutto bene? Quanto vai terminar il gioco il gioco? 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Oh, tutti stanno 3 a 1 Sério? Tutto bene? Quanto termina il gioco? 8 a 6 8 a 6 8 a 6 8 a 6 Quindi, va nel penalti? È, 8 a 6 nel penalti 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Brasil 2 a 0 Oh, tutti stanno 3 a 1 3 a 1 Todo il gioco il gioco il gioco 2 a 0 3 a 0 Valeo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 3 a 1 3 a 1 3 a 1 2 a 1 2 a 0 3 a 0 3 a 0 2 a 0 1 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 4 a 0 5 4 a 0 5 Mancano due minuti e ancora non inizia la partita Me la devo vedere qui al suo telefono, vi rendete conto? Che regà, guardate che roba Il maxi schermo gigante si vede piccolino, è già iniziata la partita e ancora niente Che vergogna, che figura di merda Sembra tipo la Microsoft non ha presentato Windows E' tutto bloccato, sono passati praticamente 5 minuti dall'inizio della partita E ancora niente, c'è la gente che sta bestemmiando il portoghese Regà, me ne vado, qua da merda Praticamente si è bloccato pure il maxi schermo, si sente l'audio in ritardo Che flop Hanno fatto la cosa più grande dell'America Latina Non hanno provato nulla prima Che è uno schifo Regà, mi sto dovuto fermare qua, a vedere la TV qua, vi rendete conto? Tanto qua arrivano tutti, la gente se ne sta andando via Qua si pranza, butecco tutto secco Dicono che si mangia bene qua Valeu Andiamo? Ci provo, sto tornando Però fa veramente cagare Si vede un pezzettino solo centrale dello schermo Ecco, è ricominciato Forse è rigore, eh Check over, non è rigore Sto portiere, porca drossa, para tutto E' quello che ha parato i tre rigori l'altra volta Non credito, non ci credo Sto portiere, para tutto, para tutto Pezzo di infame Vai, ahì, Anthony, tira Tira, mamma Adesso, regà Quattro minuti di reputazione, facciamo Vai Rival, vai Rival Vai Rival Vai Rival Vai Rival Vai, mamma mia Caral Cazzo Cazzo Porca trota Gol di merda Calce di rigore, regà Calce di rigore, porca trota Dita incrociate Oh, gol, ecco qua Sto portiere di merda Questo ha parato tutti i rigori Ha parato fino adesso Alisson Cazzo T'hanno pagato milioni 80, 90 milioni 100 milioni Quanto cazzo t'hanno pagato? Alisson, devi fare qualcosa Tutti i centrali Tutti i centrali Stanno abbattiti Mio dio Marchinhos Marchinhos Non ci credo Siamo usciti Siamo usciti Siamo usciti Siamo usciti Siamo usciti Comunque Per sostenere il canale Presto Prestissimo Caricherò altri video Vediamo un attimo Che tipo di video fare Torneremo Anche con video normali Diciamo E non soltanto Reazione alle partite Antony che piange Io vi saluto Vi ringrazio Vi do un grande Grandissimo abbraccio E al prossimo video Bella Intanto ci accontentiamo Di un pago oggi Trazione A porедino Pra dire swollen Com a smacka Edione Na Tras Guardate Ciao Ciao Buong Grazie a tutti.